Grazie a precisione, ora esplode la gioia dei giocatori e i tifosi per la vittoria. Ci sono riusciti, hanno vinto anche la finale, ora sono campioni. Il risultato giusto Fabio, sono sicuramente la squadra più forte che abbiamo visto in questa Coppa. Ce l'hanno fatta, sono loro i vincitori della Coppa. Si sono impegnati al massimo fin dall'inizio e si sono meritati questo trionfo. Grazie. Grazie.